La pubblica assistenza Procivis di Gela ha un nuovo direttore sanitario, si tratta del medico chirurgo Roberto Labbiso, primario dell'unità funzionale di chirurgia della clinica Santa Barbara Hospital. L'insedimento è venuto ieri nel corso di una cerimonia. È un incarico importante di grande irresponsabilità, di abnegazione. Io cercherò di mettere a disposizione per conto della pubblica assistenza, la Procivis, la mia esperienza, la mia professionalità. E di conseguenza penso di ricavare da loro ulteriori esperienze per crescere, che cresceremo insieme, nel svolgere questo impegno importante per la comunità, per la collettività, in maniera tale da dare un servizio migliore possibile. Il neodirettore sanitario porta avanti il suo nuovo incarico, proseguendo sulla strada tracciata dal fratello Giuseppe, scomparso mese dietro, assieme al figlio, in un tragico incidente aereo. Io subentro a lui nella speranza di portare avanti un servizio di efficienza come lo portava lui e di essere all'altezza sua. E nel ricordo sono qua soprattutto anche per un ricordo suo. Luca Cattuti è responsabile della pubblica assistenza Procivis. La scelta di Roberto Alabiso ricade su un desiderio da parte di tutti i volontari e soccorritori della struttura, che hanno voluto fermemente che fosse proprio Roberto Alabiso a proseguire il progetto che già il fratello, il dottore Giuseppe Alabiso, aveva intrapreso. Ricordo che il medico è stato all'interno della struttura, sin dalla Costituzione, dal 6 dicembre 2002, come direttore sanitario. È stato sempre presente nelle attività, oltre quelle sanitarie, anche quelle di protezione civile. Io ricordo quando metteva a disposizione il proprio aereo, per esempio, per la campagna antincendio, per monitorare il territorio gelese. E' tanti eventi che naturalmente hanno lasciato un'impronta interebile all'interno di questa struttura. Quindi l'augurio a Roberto è quello di non farci mancare, di non farci sentire l'assenza di Giuseppe, ma di essere anche lui qui presente, proseguendo questo progetto importante che abbiamo intrapreso già da tempo e che stiamo continuando e lasciando come impronta cittadina.